Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi giocheremo a minecraft nelle lucky slams e vai e vai caramelle 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 e vai e vai e vai e voi mettete un mi piace se volete qualche caramella ok ragazzi avete visto l'int cosa c'è un altro dream ho visto la nuova allora oggi andremo a giocare nelle lucky block eh si oh my guys ok ho messo solo ma ma aspetta fa una c'è un attimo questo bug eh basta muoverse un po' tre tre uno via speriamo che siamo almeno un pochino almeno qualcosa di infortunato beh questo mica male però in oro quindi non puoi prendere niente i meravigli non mi servono perché questi non possono commerciare vero non possono commerciare questo e questo e quindi questo è un problema eh già è una roba brutta quest'anno ma è una roba brutta quest'anno ma è una roba brutta quest'anno non è male e tu non provare a non provarci eh e tu non provarci e tu non provarci cioè appena iniziata non puoi farmi questa non è mica male però ah la cosa bella ah giusto lo prende sta o mi sta no 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 casino 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 no no sei pazzo te veloce vabbè ma grazie comunque ho fatto esattamente una super cavolata via è casino, è casino, è casino ecco, iniziamo bene ecco, iniziamo bene ecco, iniziamo bene, iniziamo bene siamo già morti l'odio è quello, l'odio è un sacco l'odio è un sacco c'è, o almeno qualcosa di bello no, eh, c'è 5, 4, 3, 2, 1 sì, però non è giusto, c'è quelli avevano delle robe bellissime qua sì, però sono questa roba ma che schifo, una volta davano anche diamanti dall'altra parte, mi chiede a me una pig, eh sì, grassi e no vabbè, il cibo ho capito no, quella è un trucco ve lo faccio vedere subito lo faccio soltanto lo faccio soltanto per farvi vedere non lo faccio certo perché credo ah, almeno questo è mica male mica, eh dai, non ce l'ho benissimo a dire la verità, mica male così ok ok, ci prendiamo anche il cibo così se non abbiamo un cibo no, no, magari spiegare il tempo guarda che succede lo faccio soltanto per me allora, lo faccio lo faccio, siete sicuri? no, adesso non perdiamo sicuri? io lo faccio, io lo faccio lo faccio per voi ah, no succedeva un'altra cosa brutta vabbè ah, si è bugato perché si perché l'aglio è così tanto? comunque ah, questo mi serveva molto ok, quanto viene carota tu vuole ah, si va vuole tu vuole ma tu vuole oh, tu vuole è un momento buono buonissimo spiego è un momento buono è un momento buono che peccato raga no questo è troppo veramente dai dopo tutta la fortuna questo è troppo veramente io ve lo dico questo è troppo questo è troppo veramente è troppo sì ma come ho fatto sopravvivere me lo dite me lo dite ah no questa non mi serve tanto oh hot potato eh ma ragazzi è troppo raga devo buttare qualcosa ecco bella raga qua bella 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 ok bisogna spiegare ok basta ho capito 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 in un po' valci adesso faccio una cosa super non so è bella è bella sei cinque tre due uno colori no è ancora morto una e questo ok dai sta durando un bel po' oh ciao boot ciao sapnop ciao sapnop ma sapnop come fa a fare quelle cose sembra sapnop pessima mia boot eh ragazzi voi non sperate mai niente sapnop ah no ah siete forti o no 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 sembra sapnop tu vuoi eh tu vuoi tu vuoi ah ah sì ma oh vedi no ecco devo stare attento a non vedere altre no non le posso riprendere mi vuole no non è morto io voglio tanto no non ho più non ho più che c'è e dai Poi? Fallo? Volevi? Eh no, stavolta no, stavolta no, stavolta no, stavolta no, stavolta no No Non sa niente quello No, non provate, ci piove no Dai, ma siamo qua da noi No Non la fai, Frank Ma? No! Vabbè dai, ci stava dopo un bel po' Vabbè, eravamo in due credo Sì, eravamo in due certo Mamma mia Non vengo mai a niente, perché? Devo essere così Lui, c'è almeno qualcosa La sfortuna del principiante da sei Eh sì, la sfortuna Oh, iniziamo a vedere con la bella Ah! 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 C'è l'esplosione C'è l'esplosione Non, ma che bello Ah! No! oh 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 ma oh ma tu vai oh 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 e tu non provaci non provaci te ho ucciso qualcuno finalmente dopo un bel po' di annetti papà non non posso un casino eh no ho fatto un casino totale 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 cioè adesso come faccio come faccio no l'odio non niente scusa perché mi devo per forza uccidere eh brutto schifoso allora scusate però c'è veramente sono anche un bambino perché mi devo per forza uccidere che sfortunato ah ho della rigenerazione non faccio neanche il tempo ma solo questa schifosa roba che mi soffoca anche ah tu non ho più niente quindi vattene bene anche te poi si lagga ah che bella roba che brutta roba l'acqua è l'unica cosa che ci sono tante cose belle invece non c'è un bel niente e c'è un colo ah con il sapere c'è un colo scusa perché mi hai dato l'acqua se non ci sono le frecce genio ah no no subito no non puoi non puoi poi quella faccia nascondata proprio significa che un cretino ok dai però io non ho niente adesso vedo no adesso vedo adesso sono un po' avrabbiato adesso mi no adesso mi concentro molto mi concentro molto adesso prima non sono stato non ne ho concentrato bene ecco anche lo zoom zoom wow oh ma non posso neanche oh ma si è lagato tutto cosa? oh aiuto 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 ok lo ci lo zombie finalmente e no e no e basta zombie adesso adesso ti faccio vedere io come vanno le cose dai 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 tu stai lì 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 lo capisci lo capisci che sei nagliato così oh bravo continuo così all'infinito si annoio stai lì no strano come ho fatto indovino Dov'è indovinata e facile. Ah già ho completato tutto in ferro. Ah il polpette è forse rotto eh. Ah il polpette è proprio distribuito al massimo. Che bella va. Che brutta va. Dai non eseguiamo anche con brutta. Alla fine questo è meglio di questo però. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Che bella guarda. Quello non è dream però invece ne lo so. No mi è venuta in illusione. Che era così? Forse non era così non so. Tu forse non serve a niente. Non è neanche morire tranquilla. Tu volevi. Tu volevi. Grazie però eh. Questo mi serviva proprio. Grazie tante. Quasi mi dispiace che ti abbia ucciso. Lo sai che ti faccio male? Ti faccio malissimo. Dai Pio quanto ci metti? Ah è già morto. Ma quanto? No sei. Non sei scemo. Sei scemo. Ah. Eh. Casino. Adesso non posso. Oh my god. 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 Bel casino. Mi devo preparare? Mi muore. Oh ma non ho niente eh. Non ho neanche un po' di cibo. Allora. Mi faccio. Sono proprio intrappolato. Ho un'idea però. Non so se è un po' geniale. Forse no. Lo faccio. Lo faccio soltanto. Perché non ho niente. Voglio qualcosa. Sono sicuro. Io sono sicuro. Io ho troppo paura. No. E se. E se. Succedesse qualcosa. E se mi scopesse. Se mi vedete. Un carino. Guardate un carino. Che voi. Non sapete. Ce l'ha. Dianetti. Qua l'ho dovuto. Peccato. Ovviamente. Un grande peccato. Mmm. Vabbè. Ah. C'è già qualcuno. Quindi. È un casino. Completamente un casino. Dove è sotto? Ah. È già andato di sotto. Ah. Ah. È già andato di sotto. Un attimo. È già andato di sotto. Quella. È veramente bella. Ah. Sono proprio dei comici quelli. Vado di dire. Vado di dire che sono veramente un po'. No ragazzi. Ho 13. No veramente. Non sapete niente. Cioè. No. No. È la cosa. Più. White. Del mondo. Cioè. Più strana del mondo. Che bello. Che bello. Che bello. Oh. Adesso sono super forte. Nessuno può guardare. Nessuno può guardare. Nessuno può guardare. Vabbè. Sì. Insomma. Nessuno può. Eh. Mecca tanto. Ah. Quello. Giusto. Mi ha rientrato. Lo sai che c'è la cucchia? Lo sapevi? Giniasso. No. Dai. È l'ultimo. È l'ultimo. Dai. Fifone. Ma ce ne avevo degli altri. Fifone. Ma. No. Veramente. Mi dissocio. Mi dissocio. Mi dissocio. Mi dissocio. Veramente troppo. No. Ragazzi. No. Veramente troppo. Troppo. C'è. Le sbaglio. Tutto. Le sbaglio tutte. E poi avevo la shift. Strana. Che sono caduto. questo mondo è veramente ingiusto è veramente ingiusto dai te ci devi sussidere automaticamente eh si buonanotte buonanotte anche con questo buonanotte siamo a Parigi abbiamo già fatto una cosa niente male dai dai diciamola bene niente male no si si no niente male dai si da tutto quello che mi è successo neanche e poi c'è pochissimo non sono d'accordo dai veloce non voglio sapere neanche come su moto però non è ingiusto è ingiusto non ho niente ho solo quello l'avete visto no è ingiusto è ingiusto non posso mai vincere sono anche un bambino lo capite vabbè guarda sono ancora tivo e basta devo mettere sì no basta basta tu adesso non mi importa se mi do più qualcosa non ci vedo più niente che fuoco non mi importa adesso tu vai dai dai così non puoi morire subito tu adesso vai tu adesso vai non voglio morire subito non lo scherzo no no cosa l'odio 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 questo mondo l'odio tutto schifosi le faccio vedere io le faccio vedere io dindable godate tutti tutti godate ma posso avere un attimo di privacy posso avere un attimo di privacy sono 25 minuti perché stupidi infami schifosi brutti infami schifosi sono oh dico le paragonci però non mi importa perché c'è ma è giusto affidatessa a uno solo vi odio vi odio non intendo a voi ragazzi assolutamente intendo a quelli cioè eh no e stavolta no eh no eh no e basta e poi si lagga c'è non ha senso no veramente io non lo so e tu non puoi farmi no ti faccio ah perché le persone sono così lente perché tutto deve essere ingiusto sei da anni e basta no no Aspettate, no 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 no, questo è l'ultimo po', avete esagerato, lo capite, che avete esagerato, lo capite, arrivo a casa, lo capite, lo capite, avete esagerato, avete esagerato, avete esagerato, adesso muoio? Già morto? Ah, una morte, aspetta che, una morte? Siamo perfetti, e vai, e vai, e vai, che cavolo ha fatto? Vabbè ragazzi, abbiamo visto il video, tutti ci vediamo in un prossimo video, ciao!